Ed eccoci al vostro spazio. Questo spazio è tutto quanto per voi, dedicato ai vostri dubbi, ai vostri quesiti legali. Mandatemi le vostre video domande al numero whatsapp che vedete in sovraimpressione e io vi risponderò su questo canale e non dimenticate mai la parola d'ordine. Questa è la legge. Buonasera avvocato, volevo una delucidazione su un caso abbastanza particolare che mi è capitato solo un paio di volte, quindi sono delle eccezioni. Uscendo con amici, appunto, giusto un paio di volte, è capitato che io avevo la carta ed altri avevano invece moneta spiccia. Ora, nella maggior parte dei casi, nessun problema. Però in un paio di casi i ristoratori ci hanno fatto storie. Uno sosteneva che siccome tutti quanti avevano moneta spiccia, io non potevo pagare con la carta perché lui aveva già messo lo scontrino. Mentre un altro aveva detto che siccome eravamo più persone a pagare con carta, ciò non era possibile perché lui aveva tutto collegato e dovevano fare per forza il pagamento con una sola carta. E questo ovviamente ha comportato notevoli disagi. A questo punto mi chiedo, chi ha ragione? Chi tranquillamente fa pagare moneta spiccia, chi ha moneta spiccia e con carta, chi ha la carta davanti al regolare scontrino? Oppure queste persone che ci impediscono di pagare con mezzi di pagamento differenti gli uni dagli altri. Così magari dopo questa delusitazione potrò risolvere la situazione al meglio e dirgli questa è la legge. Perché in Italia ci sono così tanti avvocati? Perché la gente ha bisogno di giustizia. E perché c'è così tanto bisogno di giustizia? Perché solo pochi conoscono i propri diritti e doveri. Colpa della scarsa chiarezza della legge. La legge è ostica e destinata solo ai tecnici. Nei giudici ci danno una mano. Le sentenze infatti sono ancora più incomprensibili. Il che è un paradosso, visto che a rispondere delle violazioni è solo il cittadino e non il suo avvocato. Di qui l'iniziativa con Gribaudo del gruppo Feltrinelli di realizzare questo libro. La legge per tutti, un nome non casuale. Questo libro vi spiega, fuck, tutto il mondo della legge. Per ogni vostra domanda troverete una risposta. Che ne so, avete un problema con la bolletta, con una multa, con il condominio, con i creditori, con la polizia, con il vostro capo, con il fisco, con l'ex coniuge, con i vostri familiari? Non sapete come fare un testamento, un contratto o una denuncia? Volete scoprire come non lasciare la casa all'ex moglie? Cosa si rischia con un lavoro in nero o con un affitto irregolare? Conviene di più intestare i beni ai figli prima di morire o fare testamento? Qui dentro troverete le risposte e i tutorial pratici. E in più una piccola biografia in cui vi dirò come ho trasformato il mio lavoro di avvocato in un piccolo microcosmo di servizi legali. Se vi interessa, trovate in descrizione il link per l'acquisto online. Il volume lo trovate in libreria dal 3 marzo. Affrettatevi a prenotare online la vostra copia che vi arriverà direttamente a casa. Tutte le più comuni domande e molte altre trovano quindi una risposta in questo libro. Questa è la legge e questo libro sarà il futuro compagno di ogni italiano. Il ristoratore o il titolare della pizzeria o di qualsiasi altro locale può esigere che tutti paghino con carta o contanti? Uno di voi ci fa presente un problema che si verifica spesso all'atto del pagamento al ristorante o in pizzeria, allorché un unico conto viene diviso tra più amici. Alcuni di questi vorrebbero pagare la propria quota con carta di credito o bancomat, altri invece in contanti. Il ristoratore in alcuni casi non accetta metodi di pagamento differenti, opponendo ostacoli di natura tecnica determinati dal tipo di scontrino emesso. In alcuni casi è stato così imposto il pagamento con un'unica carta di credito o bancomat. In altri casi invece è stato vietato il pagamento con carte laddove le altre quote erano state già pagate in contanti. Mi viene quindi chiesto da uno di voi se questo comportamento sia lecito o meno. Ecco cosa dice la legge al riguardo. Innanzitutto il ristoratore è tenuto ad emettere tante ricevute o scontrini per quanti sono i commensali, perché il contratto che questi firma è con ciascuno di questi e non con il gruppo. La comitiva di amici infatti non è un soggetto giuridico come una società o un'associazione. Ne è possibile ipotizzare una responsabilità solidale tra tutti i clienti solo perché seduti allo stesso tavolo, almeno in assenza di un'esplicita disposizione di legge o una previsione di contratto, ragion per cui le obbligazioni, cioè i contratti, sono tanti per quanti sono i clienti. Diversamente dovremmo ammettere, cosa che non ha alcuna giustificazione legale, che se un amico non dovesse pagare la propria quota, il ristoratore potrebbe chiederla agli altri. Invece una pretesa di questo tipo non avrebbe alcun fondamento giuridico e qualsiasi giudice la rigetterebbe. Solo un esplicito avviso fatto dal ristoratore, facilmente leggibile dalla clientela prima della conclusione del contratto, ad esempio perché riportato sul menu o davanti al locale, potrebbe escludere la possibilità di chiedere conti separati. Questo infatti si potrebbe configurare come una condizione contrattuale conoscibile e quindi da rispettare. Del resto, ben potrebbe essere che uno dei commensali gradisca alzarsi prima degli altri, pagare il proprio conto e andare via. Oppure potrebbe anche avvenire che uno di questi, esercitando un'attività commerciale o professionale, richieda la fattura per scaricare dalle tasse il costo della relativa cena. Se tutto ciò che vi ho detto è vero, ossia che il ristoratore è tenuto, salvo patto contrario, ad emettere conti separati e in tal caso quindi ad emettere tante ricevute o scontrini per quante sono le persone sedute al tavolo, è anche vero che sarà anche tenuto ad accettare il pagamento secondo il metodo offerto dal cliente stesso. E questo perché da un lato il ristoratore è tenuto ad accettare per legge i pagamenti elettronici, ossia con carta di credito o di debito, cioè il bancomat, almeno se richiesto dal cliente, non potendosi in alcun modo porre né presentare giustificazioni sulla natura dello scontrino emesso. Dall'altro lato il titolare dell'esercizio commerciale non può rifiutare il pagamento con moneta corrente, quale ad esempio i contanti. Neanche il fatto di avere già battuto lo scontrino può esimere il ristoratore dall'accettare pagamenti con strumenti diversi, alcuni ad esempio con carta e altri con contanti. Bene amici, ci vediamo al prossimo appuntamento delle videoconsulenze. Vi ricordo ancora una volta il numero in sovraimpressione per mandarmi le vostre video domande e io vi risponderò per quanto possibile. Questa è la legge. Questa è la legge.